Avrà inizio il prossimo 21 giugno il processo a carico dell'ex commissario ad acta per l'attuazione al piano di rientro alla sanità Massimo Scura dell'ex sub commissario Andrea Urbani e dei dirigenti veterinari Achille Straticò, Gianluca Grandinetti, Fabio Arrigoni, Pasquale Turno e Maurizio Anastasio. Il gruppi di Catanzaro Isabella Valer si ha rinviato a giudizio tutti gli imputati accusati a vario titolo di abuso d'ufficio e tentato abuso d'ufficio. In particolare Scura e Urbani avrebbero illecitamente procurato un ingiusto vantaggio economico ad Arrigoni, Grandinetti, Anastasio e Straticò, tutti membri della Task Force per la medicina veterinaria, permettendo loro di percepire indebitamente somme a titolo di indennità forfettaria per prestazioni aggiuntive settimanali e rimborsi chilometrici per uso del mezzo proprio. Secondo l'accusa, attraverso una serie di provvedimenti sarebbero stati liquidati più di 90.000 euro ad Arrigoni, dirigente veterinario dell'ASP di Crotone, 60.000 euro a Grandinetti, dirigente dell'ASP di Catanzaro, 20.000 euro ad Anastasio, dirigente dell'ASP di Cosenza, 22.000 euro a Straticò, dirigente dell'ASP di Cosenza. Scure e Urbani avrebbero tentato lo stesso abuso d'ufficio anche nei confronti di Pasquale Turno, dirigente coordinatorio della Task Force veterinaria. Non avrebbero raggiunto lo scopo perché l'ente di appartenenza di Turno non ha dato corso alla liquidazione delle somme.